Ciao a tutti e belli e brutti, io sono Oschi e oggi siamo tornati in questo mio nuovo video Bene, è appena finita la partita del Milan contro Chievo 3-1 per noi, sono molto molto contento Molto molto contento, seconda vittoria di fila in campionato dopo quella contro il Sassuolo Terza vittoria di fila dopo insieme contando anche quella contro il Piacos Oggi giochiamo veramente bene, Chievo messo male che prova a fare qualcosa, viene un po' su alcune volte Ma niente di serio, forse alla fine del primo tempo proprio un tiro pericolosissimo Cioè un'azione pericolosa, un tiro che però per fortuna di Birsa, che va a fa'culo Birsa E è uscito Bene, allora ricapitoliamo, segnano Iguain, segna doppietta di Iguain in 7 minuti Poi buonaventura nel secondo tempo, per il Chievo invece segna Pellissier Ma adesso andiamo a parlare un po' di tutto Allora, gran partita, buona partita, gestiamo bene E gestiamo molto bene perché già capiamo, già facciamo vedere che giochiamo, che giochiamo bene Anche se all'inizio non mi era piaciuto molto perché dopo 9 minuti dovevamo ancora servire Iguain E dopo Iguain, 27esimo, un casino dello sblocchi, fai un errore, cross in mezzo Iguain ti punisce Ti punisce molto molto pesantemente Fai un altro errore, Iguain ti punisce nuovamente perché lo lasci da solo in area di rigore In posizione regolare è come andare a nozze È come proprio andare a nozze, essere proprio su una prateria e correre libero per lui Per lui la cosa più semplice del mondo è girarsi e far gol Grande, grande pipita, grande pipita Buona Suso, sono contento oggi per Suso Due assist per lui Anche se poi ho visto un po' di momenti dove ero sparito ma Suso li ha E buona, buona partita Poi secondo tempo Non ho visto un gran che sì quei oggi Buona partita Non bene come le altre volte, solo questo volevo dire Perché infatti Zapata poi, noi parliamo, fa un brutto passaggio a Zapata Fa ancora di peggio che sì Lancia, la palla arriva a Pellissier, Gran Pellissier Io vorrei fare un applauso a Pellissier comunque Che è un gran signore Spero per lui, il Chievo, secondo me mi sta abbastanza simpatica come squadra Spero soprattutto per lui che il Chievo non retroceda Ma la vedo veramente dura per il Chievo La vedo molto male perché c'è Meno un punto in classifica E lo vedo molto molto male Però oggi segna Pellissier con un aumento veramente Che lui è proprio una bandiera per il Chievo E spero proprio non retroceda Per i top, sicuramente i top sono Higuain Poi Biglia Tra i top io metto anche Biglia perché è veramente oggi mostruoso Ho recuperato palle come fosse una cosa semplicissima Come fosse un allenamento contro i bambini E anche Buonaventura per il gol Anche posso dire che tra i top Fuso Gli altri abbastanza bene Forse quelle che mi facevano un po' più incazzare Erano Zapata e Abate Che però Paginari, Abate insomma l'ha fatto giocare così tanto per farlo giocare E Zapata perché Romagnoli non stava bene però Zapata faceva così Prendeva pala Passava Musacchi Musacchi gliela ripassava Gli ripassava Rodriguez Questo è quello che ha fatto Zapata oggi Anche se comunque ha coperto molto bene La fase difensiva la fa Quella un po' di spinta Passaggio Non la fa Però va bene così Ripeto Sono molto molto contento Tre punti fondamentali Per noi E cosa volevo dire Ancora Ah questa non c'entra con la partita Volevo dire che sono Molto contento Perché ho visto Del canale Perché ho visto Che lo sfogo Un po' così Un po' Incazzatura Dopo la partita con l'Empoli Ha fatto più di 200 views E E anche l'ultimo video Con Tulipiacos Mi sono accorto Che subito il giorno dopo la mattina Era già Pieno Pieno Era già Aveva già 140 views E sono molto molto contento Non che mi interessino Avere tanti views Perché tanto Non monetizzo niente Non guadagno nulla Mi piace però vedere Tante persone che guardano I miei video E anche che commentano Perché c'è qualcuno Che si commenta E anche qualcuno Che si è iscritto Bene Vi ringrazio Anche per chi commenta Per chi si è iscritto Quindi Ripeto Sono felicissimo Andiamo avanti così Sempre a forza Milan Se questo video vi è piaciuto Mettete un bel like Condidete e fate quel cazzo Che volete Al Bastoschi è tutto Ciao a tutti Belli e brutti Grazie a tutti